Se ti interessa acquistare i crediti di FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Vabbè a tutti ragazzi ed eccoci qua tornati! Ed oggi signori, è il giorno. Oggi signori, è il giorno in cui, qui su FIFA 17, scenderà in campo il nostro draft da 190. Avevamo costruito questo draft qualche giorno fa e adesso è il momento di tentare questa cazzo di scalata. Quindi signori, oggi è il momento giusto, abbiamo quattro toti in squadra, il portiere è l'unico che mi preoccupa tanto ragazzi. È un 76 del cazzo, penso che la cosa migliore da fare sia che appena inizia la partita lo sostituiamo magari con Trapp che è qui in panchina. Eccolo qua pronto a entrare, Trapp 83. Quindi signori adesso, prima di andarci a cercare il primo avversario di oggi, fatemi vedere che ci siete. Lasciate un like per questa draft challenge incredibile, proviamo come sempre a superare i 20 mila likes. E adesso ragazzi, i miei 190, andiamo in campo. E ok signori, ci siamo! Il primo avversario di oggi ci mette davanti, anche lui ha una bella squadra, C'ha poca intesa, un Ronaldo punta, un Barzagli messo terzino destro, non lo so. Sono queste le squadre che di solito sui draft vanno avanti, quelle con poca intesa. È il momento del cambio perché non mi fido di Erreri, non voglio lasciare niente al caso, metto subito Trapp. Ok, veloce, veloce, vai Neymar, vai Neymar, corri, corri Neymar. Eh madonna c'è Ramos, c'è Ramos. Eh vaffanculo, Ramos arriva da tutte le parti. Ok, bravo Icardi, veloce, dalla Icardi, benissimo Icardi, Icardi da solo, la mette dentro, uno contro uno, non sbaglia. Iniziamo benissimo. Uh Neymar dov'è passato? Oddio Neymar, oddio Neymar, passala in mezzo, ok. Aspetta, passala, fai gol, Icardi, ne fa un altro. Ok signori, cinici, guarda l'ho messo, mamma mia, tutta la scella gli arriva. Bravo Neymar, oddio l'ha messo giù, oddio l'ha messo giù, oddio l'ha messo giù. Perché? Perché sbagli sempre quel passaggio lì? No, oh bravo Ramos, ok. Ed è finito il primo tempo signori, 2 a 0. Penso che non mi abbia fatto neanche un tiro in porta. No, uno me l'ha fatto, vabbè noi abbiamo fatti due. L'ho detto io ragazzi, cinici in questa partita. Perché non c'ho, perché questo è salito di qua? No, non cadere, oddio santissimo. Meno male che non è caduto. Ok, perfetto, va bene. No, vabbè Icardi, porca puttana sti passaggi di merda che sbagli pure tu. Corri Messi, corri Messi. Mannaggia la puttana, è tutto odioso, è tutto odioso. È tutto e laggoso. Va bene Messi, ok? Oh, canemario di testa! Vai, vai Messi, finalmente. Tutta la partita che aspettavo di vederti andartene su Felipe. Ok, aspetta Icardi. Non sai dribblare Icardi da fuori, porca troia. Tentiamola, va bene. Ramos di testa che c'hai mille di porca puttana. Mille di porca puttana. Bella, bella. Vai Neemario, vai Neemario. Aspetta, fa la finta. Ok, sul sinistro, va bene, metti in mezzo. E dove cazzo l'hai messo sto sinistro? Perfetto così. Bravo Koche. Tira una pezza Koche di sinistro. Va bene, va bene, va bene. Vai, vai Ronny, vai Ronny. Ma, donna, santa Barzagli è l'illegalità fatta persona. Sono tutto da solo, qua in mezzo. Ronaldo, ma cadi, porca troia, Raffallo. Ti ha fatto malissimo lì. No, vabbè, Ramos, che cazzo ha fatto lì? Ramos, ce l'ho. Perché Ramos? Perché Ramos? Ra... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mamma mia trap. Vai Neemario, vai Neemario. Aspetta, aspetta. Bravo Neemario, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. L'ho in culi di qui. Madonna, eh, guarda il suo. Il suo resta sempre sul pezzo. Il mio è un pezzo di merda. No, vabbè, sta laggando a merda. Sta laggando a merda. Sta laggando a merda. Sta laggando a merda. All'ottantunesimo devo concedere il gol. Ed è finita, signori. Prima partita andata. Non ci sono state tantissime occasioni. Cioè, la sua squadra non si sa come. Riusciva a mantenere i ruoli benissimo. Quasi come se avesse 100 d'intesa. Nel draft, ragazzi, non conta un cazzo l'intesa. Non conta veramente un cazzo. Se hai gli uomini forti, la squadra gioca bene. Se hai gli uomini del cazzo, come le faccio io le draft challenge, la squadra gioca di merda. Fine. E andiamo avanti, signori. Quarti di finale. Vediamo chi incontriamo. Dai, fammi vedere cos'hai, orco cane. Oh, merda. Non l'avevo visto Geeks Legend lì a centrocampo. Anche questo, come quello di prima, ha una squadra con poca intesa, signori. E sono queste le squadre che ti danno più fastidio. E io direi che, senza sapere, né legge, né scrive. Subito draft dentro. Vai, 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 su. È partito, è partito bello, è partito bello. L'aspetta con calma, madonna santa, uh che gliela hai ripresa. Bravissimo, beh. Perché mi lagga sempre, perché mi lagga sempre questo... Messi, levati dal cazzo! Mannaggia te! Proviamola, proviamola, proviamola. Aspetta, Matthew! No! Non ci credo, che buco di culo. Ok. L'hai visto? Me l'hai visto? Modric! Cosa, cosa, cosa ha preso Bauman? Veloce Messi, veloce Messi, corri, corri Messi. Ma non c'è nessuno qui, dalla sotto, dove... Non ci credo, è passata! Non ci credo, è passata! Non entra mai questa palla, 99 volte su 100 non entra. E stavolta è entrata nel culo. Oh mio Dio ragazzi, ma che... Dove si è... Guarda Bale! Guarda Bale, che eroe! Bella, bella, bella così, bella così, ok. Ok. Nei Mario la mette in mezzo. Oh, che cazzo! Putzatela dentro! Oddio, Messi, Messi ce l'hai, Messi ce l'hai, aspetta. Ragiona, Messi. Metti... Oh, mi ha ucciso. No! Aia, aia, brutta, brutta! Io non ci credo, io non ci credo, io non ci credo che ho preso sto gol. Guarda quella troia di tramite il ritardo con una puttana. Il 90% dei gol si fa al novantesimo e al quarantacinquesimo, vai. Dai, corri, non c'è nessuno in mezzo. Oddio! Oddio! L'ho detto io! Il 90% dei gol si fa in queste occasioni. Eh, raga, non ci credo. Non ci credo. Cioè, è la prima volta che succede una cosa così in mio favore nella storia di me da giocatore di FIFA. Primo tempo andato, signori. Stiamo vincendo, non so bene come, ma stiamo vincendo. No, vabbè, ma il draft lagga troppo. Ma che cazzo è sto draft? Cioè, da quando ho iniziato che lagga? Guarda, 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 guarda che non gliela riescono a rubare. Ma che problemi hanno i miei? Sì, vabbè, ma a me mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di sti gol di merda. Mi sono rotto il cazzo. Ronaldo tutto storto. Da fermo, di sinistro. Sotto l'incrocio. E trappo che dorme. Vai Messi, su, corri. Ma perché Icardi non sta mai in mezzo? Icardi non sta mai in mezzo, Icardi. Va bene Messi, va bene, va bene, va bene! Cosa ha preso? Ma dove cazzo hai tirato? Cos'era quella merda, Ronaldo? Il suo Ronaldo 99 però prende la porta da storto di sinistro. Il mio da un metro no. E adesso ricomincio a laggare. Ma perché lagga sempre? Ce la fate? Ha rubato sta cazzo di palla. Oh, fallo? Ma io non capisco che è tutta sta difficoltà oggi a giocare sti draft. Sei da solo? Sì, lo sapevo, l'avevo visto, che ero da solo. Non capisco perché oggi il livello degli avversari è così maledettamente alto e il livello dello script è così maledetto nel culo, cazzo. Cioè, Bauman in porta e basta. Finita, signori. Alleluia. Si va in semifinale. Che bello. Nelle draft challenge perdiamo sempre i quarti di finale e oggi, finalmente, arriva la semifinale. Adesso questa partita sarà decisiva. Voglio andare in finale. Ci siamo, signori. Prima semifinale dopo tantissimo tempo. E oggi, non lo so, stiamo incontrando tutti gli avversari che hanno poca intesa. È strana e ho paura. Ormai sono tutte così, ste partite. Sta facendo i cambi anche lui. E ne approfittiamo. Ha messo lui in pausa, ok. Aia. Ah, eccola là. Eccola là. Non mi ha dato il tempo di cambiare quella pippa di Erreling. Perché adesso entra trappo. Va bene così. Va bene così. Messi, Messi, le braterie, le braterie. Corri, corri Messi. Aspetta. Ok, Messi. Messi! Pensavo sarebbe successo come mi è successo nel rotto di Vision One. Che Sanchez si era messo in mezzo ai coglioni sull'Inecat. Però questa volta non succede. Dio, grazie. L'abbiamo fermato. L'abbiamo... No, no, mamma santa. Restate in pie. Guarda quello come si è fatto. Mamma mia, come si era fatto anticipa quell'altro. Vai, Messi, vai, Messi. Benissimo. Corri, corri, Messi. Veloce, veloce. Metti in mezzo. Mi è imato. Veloce, che bella. È sfilato via. Veloce. Bella. Rientra. Benissimo. Metti in mezzo. Vai che non... C'è il tuo buco di culo. Perché mi seleziona quello più lontano? Ora, io mi chiedo, no? Dove cazzo è il mio difensore centrale che doveva stare lì? Dove cazzo è il mio difensore centrale che doveva stare lì? Porca puttana! La difesa che non tiene! Cioè, stavamo giocando una partita bellissima, no? Bellissima. Cioè, era veramente bella fino ad adesso. Perché? Perché? La difesa non esiste a volte. Ok, Ronnie. Ok, Ronnie. Ronnie! Oh mio Dio, c'ha rulli in porta. Basta angolarla un pochino. Primo tempo andato, signori. Questa semifinale mi sta sfuggendo così dalle mani. Maledizione! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Rientra Ronaldo. Dall'altra parte Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Oh, cazzo! Questo voglio vedere! Mamma mia, dove cazzo ti è passata? Ovedes! Dio santo! Sotto l'ascella! Bella, 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 bella. Ritalla i carti. Aspetta, Ronaldo ce l'è ancora. Ronaldo ce l'è ancora. Mettila! Messi! No! Messi! Non è vero, non è vero. Ho preso due pali. Poteva essere tutta un'altra partita adesso. Il culo che c'ha quest'uomo. Il culo che se lo mangia. Guarda dove cazzo l'ha data quello! Non ci credo, non ci credo. Bravo, Ramos! Ok, Ronnie. Ok, Ronnie. Metti bene in mezzo. Vacci! Mest'uovo, va bene! No! No! Mi stai prendendo per il culo! Mi stai prendendo per il culo! Oh mio Dio! Vai, Ronnie, ti prego. Ultima azione. Ultima azione, Ronaldo. Ultima azione, Ronaldo. Veloce. Dalla! No! Oh mio Dio! State facendo sembrare Ovedes forte! No, eh. No, non ci credo. Oh Dio! Oh Dio! Trappo, ti amo! Oh! Oh! No, ragazzi, no! Cioè, ok? Farmela perdere, ma non così! Supplementari. Madonna, che fatica! Bella, bella così, bella così. Ok, Ronaldo, ok, Ronaldo. Metti in mezzo. Ok. No, no, merda! No! Non è rigore! Non è rig... No! No, ma che stai dicendo? Ma... Ha messo il piede per prendere la palla! E gli ha dato il rigore! Lo sapevo che sto figlio di puttana la metteva al centro! Lo sapevo! No, vabbè, no! No! Ma che fa? Beh, la rimette al centro, che dite? Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Non è veneta! Ok, benissimo! Vai, Modric! Vai, Luca! Luca, mettila in mezzo! Io santo... Eh, raga, 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 io non ci credo! Veloci! Veloci! Ok, Messi! Ok, Cavani! Dalla Cavani, veloce! Cavani! Proviamoci, coca è morto, non c'ha più stamina! Ragazzi, non ce l'ha più! Ma che cazzo? Ma me ne ha salvato! E ha salvato tre gol sulla linea in tutta la partita! No, quanto sei figlio di puttana! Quanto sei... Quanto sei cancro! Eh, vabbè, Ronaldo è stronzo, Ronaldo è stronzo! Tutti stronzi! Siete tutti stronzi! Tutti stronzi! Tutti! Tutti! L'avete vista con me questa partita, ragazzi? L'avete vista con me? L'avete vista con me? Perfetto! I serveri IEI non rispondono alla tua richiesta al momento? Quale richiesta? Di avere un gioco che funzioni? Salutiamo questa bella squadra, ragazzi! Porco cane! Ci riproveremo comunque, ragazzi! Proveremo a fare il 191 la prossima volta! Lasciate un like già da adesso se volete vedere il 191 tra! Comunque, ritiriamo il nostro premio, già che ci siamo! Vediamo un po' che cosa mi dà! Wow! Puntiamo all'oro raro! Vediamo un po'... E non è oro raro! Vediamo quest'altro 24 oggetti, ragazzi! Qua un oro raro! Per favore, FIFA! Oh, è raro! Che cos'è? Murielino! E quindi, signori, siamo arrivati al termine di questa draft challenge! Spero, come sempre, che vi sia piaciuta! Fatemelo capire lasciando un like! E nei commenti, come sempre, suggeritemi altri draft challenge da fare! E quindi, signori, come già detto, per oggi è tutto! Lasciate un like, lasciate un commento! Sodin vi saluta! Bello! Se so di per caso... Se so di mandaci un segnale! Ha messo il microfono! Ok, 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 è arrivato!